Buonasera a tutti, visto che siete qua dalle nove ho preparato un intervento breve di due ore e tre quarti per tenere destra l'attenzione, voglio vedere in quinta e in sesta fila come riusciranno a mascherare pochi minuti per non aggiungere ringrazio anch'io l'amministratore legato e il presidente di ANAS, ringrazio tutte le autorità presenti, l'amico Angelo Stichidamiani, l'amico Jean Tote, ringrazio per l'interessantissima operazione di monitoraggio, poi chiederò nomi e cognomi dell'8,4% degli intervistati che ritiene che alcol e droga alla guida siano assolutamente ininfluenti, che corrispondono con l'8,8% che dice che del codice della strada potremmo fare a meno, come il dubbio che siano più o meno gli stessi per i quali diciamo che le regole sono un optional. Io sono arrivato in ufficio, abbiamo giurato, era ottobre 2022, con un consuntivo, ahimè, io sono abituato stamattina, ho fatto un incontro con l'amministratore legato ai ferrovii dello Stato, noi ovviamente mettiamo a terra miliardi per lavori sulla rete ferroviaria, sulle dighe, sull'elettrificazione dei porti, sul piano casa, quello è un fatturato, l'unico fatturato che conto di contribuire a far scendere nell'arco del mandato, siamo arrivati, 2022 se non ricordo male, era 3.159 morti, 2.023 meno 4%, quindi 3.039, io sono ottimista per natura, anche nelle sconfitte cerco di trarre qualcosa di utile per le future vittorie, diciamo che scendere, poi gli obiettivi ONU sono sempre ambiziosi, dimezzare il numero dei morti, vittime zero, magari, vittime zero, è chiaro che bisogna darsi degli obiettivi ambiziosi per tendere al massimo, e quindi di mio, sto benedetto, codici della strada che abbiamo scritto non ha quattro mani, ha 44 mani, discusso per un anno, consultazioni, associazioni familiari delle vittime, comuni, province, regioni, produttori, sindacati, di tutto e di più, arriva domani mattina in Senato, quindi la coincidenza temporale è assolutamente da questo punto di vista fortunata, conto che abbia l'ok definitivo entro questa settimana, quindi diventi norma con l'approvazione in gazzetta, diciamo che per l'immacolata, per Natale, Capodanno, per i ponti e per le feste, bisognerà calibrare, soprattutto sull'utilizzo di questo affare qua, di questo affare qua, so che nelle prime settimane di applicazione mi attirerò qualche antipatia, so che le prime, perché non c'è più la decurtazione dei punti della patente, perché ormai abbiamo esaurito il numero di nonne e di ultra novantenni senza più punti sulla patente, inconsapevolmente in gita nel weekend, quindi esaurite le nonne, le bisnonne, i pronipoti, torniamo sul pianeta Terra, è chiaro che quando hai la sospensione breve della patente, immagino le discussioni con la stradale, con la polizia locale, le maledizioni a Salvini, ma con tutto quello di cui poteva occuparsi, ma è come l'obbligatorietà delle cinture, tornando indietro negli anni, come il casco per le moto e i motorini, tornando indietro negli anni, quindi conto che quelle imprecazioni e quelle maledizioni si trasformino in un meno incidenti, morti e feriti. Poi, altronde, il mestiere del politico a me piacebbe avere sempre la ragione di tutti, difficilmente ce l'ho quando faccio cose normali, figurati quando entro nel merito della vita dei singoli, però, ecco, diciamo che per l'Immacolata o per Capodanno, quando i romani, sì, anch'io sorridevo magari l'aggiornamento sul traffico nel grande raccordo anulare, anche perché il superamento dei limiti di velocità, lì le zone 30 veramente si potrebbero mettere sul grande raccordo anulare, non in centro, non in centro. Però, conto che per l'esodo fra Natale e Capodanno, voglio pensare che già, come dai dati, il fatto che da un anno se ne stia parlando, qualcosina anticipi. Anzi, ho visto che per protesta qualche amministratore locale, in occasione di alcuni incidenti, penso alla mia Milano, imputa al nuovo codice della strada, non entrato in vigore, incidenti accaduti settimana scorsa, quindi con un potere taumaturgico che purtroppo retroattivamente non potrei anche volendo avere. Anche oggi, su alcuni organi di informazione, ci sta che il cittadino non sia perfettamente informato sulla normativa di cui stiamo parlando, che non ne sia perfettamente informato un divulgatore su giornali di caratura nazionale, è più curioso. Oggi ho scoperto che avrei inventato una fattispecie a cui neanche nelle notti più turbolenti avrei pensato la multa per i ciclomotori a ore. Cioè, ho letto su un giornale oggi che nel nuovo codice della strada ci sarebbe una multa di 98 euro all'ora per i motorini. Ecco, la multa a ore è qualcosa a cui penserà qualcun altro dopo di me. È vero che incrementiamo le multe, ad esempio, per chi occupa abusivamente i parcheggi riservati ai disabili. Quello sì. Questo articolo su un quotidiano, peraltro di area, fra virgolette, di centrodestra, dice che è un governo aberrante, incivile, leggi idiote. Ho chiesto io personalmente di aumentare le sanzioni per chi occupa reiterattamente, abusivamente i parcheggi riservati ai cittadini disabili, perché penso che sia questione di inciviltà, così come aumenta per i recidivi la sanzione anche economica. Errare umano, anche se al volante errare umano, lascia il tempo che trova, perché in alcuni casi è l'unico errore che il buon Dio ti permette, perché non c'è la seconda chance. Però ha maggior ragione per severare l'eubolico. Quindi abbiamo previsto l'aumento delle sanzioni, sì, e anche il ritiro breve della patente per chi due volte nello stesso anno sfora i limiti di velocità nei centri urbani. Perché ritengo che sia un invito alla prudenza, se non al primo slot al secondo. Sui monopattini, sì, nacquero come strumento di svago, adesso sono strumento di lavoro, io sono stato in occasione del Ponte dei Morti a incontrare il ministro dei trasporti francesi a Parigi, il sindaco di Parigi, che non è un bieco sovranista, ha messo fuori legge i monopattini. Se tu hai per Parigi non c'è un monopattino, perché sono fuori norma. Noi non li mettiamo fuori legge, però li adeguiamo ai tempi moderni, quindi casco, targa, assicurazione, freccia. Se ti va è così, se non ti va ci sono tanti altri modi di spostarsi, anche perché purtroppo ormai si arriva ai 40 e 50 all'ora anche su strade extraurbane. Quindi non è più... Ed è uno degli strumenti, non voglio parlare mai di nessuno, meno sicuri e meno stabili. Basta che qualcuno si faccia un salto al pronto soccorso del Fatebene Fratelli a Milano il sabato mattina, in coincidenza con l'undere sera, perché appunto uno dice ho bevuto, non prendo la macchina, peggio mi sento, perché sulle due ruote diciamo che se hai bevuto vai a piedi, punto. Però l'anno scorso sono aumentati di 436 gli incidenti monopattini, passati da 2.900 a 3.300. E quindi è qualcosa di cui assolutamente tener conto. C'è una novità che anche lì ho voluto mettere, parlando con le forze dell'ordine, sulla droga. Il codice vigente non prevede il blocco dell'auto e il ritiro della patente automatico in caso di positività al drogatest, perché sta al pubblico ufficiale stabilire che non sei in condizione di guidare. Teoriamente tu puoi essere strafatto, ma se ti dimostri lucido e poi qua è quanto mai soggettivo, prendi saluti e ringrazia e te ne vai. Invece col nuovo codice, qualunque positività a qualunque tipo di droga ti inibisce la possibilità di continuare a guidare. E qua ci sono colleghi parlamentari che non sono d'accordo, perché in deputazione è giusto così. Ci sono qua a Montecitorio decine di proposte di legge, di iniziativa parlamentare che chiede la liberalizzazione, la legalizzazione, la libera distribuzione in tabaccheria di alcune droghe. finché faccio il ministro dei trasporti io, ogni droga è punita in quanto tale ed è incompatibile, incompatibile con la guida di alcun veicolo. Abbiamo inserito una fattispecie che ho visto ripresa nuova che è il ritiro breve della patente per chi abbandona animali lungo gli assi stradali, perché oltre che essere incivile è pericoloso come comportamento. C'è la sospensione breve della patente per chi guida a contromano e da 7 a 15 giorni per l'uso del telefonino, quindi a rimarcare la pericolosità del gesto. Aumentano le multe per i motorini da 41 a 87 euro per chi parcheggia in prossimità di incroci, quindi posti pericolosi, e fermate degli autobus, dei mezzi pubblici. Basta per i romani vedere ogni tanto le gincane che gli autisti dei bus devono fare fra macchine e moto in sosta irregolare. Non è un codice educativo, però non capisco perché in altri paesi del mondo se uno supera il confine con l'Italia e da milanesa e arriva in Svizzera, nessuno pensa neanche lontanamente di occupare il posto per disabili, di parcheggiare in diveto di sosta, di parcheggiare all'incrocio, di fermarsi al posto dell'autobus, di abbandonare un cane per strada, e quindi mi piacerebbe che piano piano ci avvicinassimo a paesi più civili. Non è nel codice della strada, però, che poi avrà dei decreti attuativi, ovviamente, non è la Bibbia, quindi sarà in aggiornamento, però abbiamo normato le ZTL, le zone a 30 all'ora e l'utilizzo degli autovelox, che dovranno essere omologati, non potranno essere messi a ripetizione lungo la stessa asse stradale, dovranno essere motivati con ok della Prefettura, perché l'autovelox, dove c'è l'asilo nido, la scuola materna, la restrizione, l'ospedale, la casa di riposa, è sacrosanto, gli autovelox su strade a grande scorrimento, messi a ripetizione, magari neanche segnalati, diciamo che hanno un altro fine che non è esattamente corrispondente con la sicurezza stradale. Per le bici, noi abbiamo messo, c'è il Ministro dell'Interno, l'amico Piantedosi, che è appassionato ciclista, quindi abbiamo raccolto anche le richieste dell'Associazione dei ciclisti, quindi a distanza minima di un metro e mezzo per superare. È chiaro che la strada è di tutti e tutti ovviamente devono adottare buonsenso e l'utenza debole è quella su due ruote. È chiaro che anche le sventagliate di ciclisti in due, in tre, in quattro file diciamo che non aiutano la convivenza sull'asse stradale, però noi abbiamo deciso di avere ancora più attenzione per l'utenza debole, quindi un metro e mezzo minimo per superare e abbiamo messo nero su bianco cosa si intende per pista ciclabile innanzitutto per la sicurezza dei ciclisti. Non può essere pista ciclabile una striscia di bianco tirata in mezzo alla strada fra il carico a scarico merci la fermata dell'autobus e l'uscita del negozio come nella mia città ad esempio più di volte è stato fatto ed è in primis insicuro per i ciclisti. Per le due ruote per i motociclisti ringrazio Anas e ringrazio anche altri concessionari autostradali perché abbiamo anche lì raccolto delle segnalazioni degli utenti a due ruote e stiamo investendo 160 milioni di euro per cambiare i guardrail mettendo i guardrail salvavita fino a terra perché in caso di scivolata purtroppo troppo spesso il guardrail diventa ghigliottina e quindi averlo fino a terra è qualcosa che conto possa e abbiamo cominciato da quest'anno e quindi conto che insomma non c'è la ricetta salvifica stiamo lavorando per un protocollo con alcune associazioni di volontariato e penso agli amici di On The Road che portano i ragazzi delle scuole superiori sui luoghi degli incidenti con la croce rossa con la stradale perché un conto è avere la pubblicità in Rai un conto è avere il ministro 51enne che va al liceo a dire mi raccomando non andare veloce metti la cintura e non drogarti un conto è prendere il ragazzino di 15 anni e portarlo sul luogo dell'incidente dove quello della classe di fianco rischia le gambe perché non ha usato la testa e quindi conto che l'insieme di questi strumenti possa portare l'anno prossimo l'amico Jean Todd a venire qua con un meno davanti è chiaro che ricette salvifiche non ce ne sono è importante il ruolo del ministro della scuola e dell'istruzione perché è fondamentale che si ricordino i ragazzini dai 12 ai 13 anni che cosa si fa quando si prende la patente sto e vado a chiudere lavorando per rinnovare anche l'organizzazione delle motorizzazioni civili questo non riguarda riguarda anche la sicurezza non tanto per gli esami orali e pratici per la patente anche se stiamo ragionando con i nuovi dirigenti anche del cambio dell'esame della patente che più che il quiz da ruota della fortuna magari possa essere qualcosa di più attuale invito voi se non l'avete fatto stasera tornando a casa se avete 5 minuti a scaricare da internet lo schema qualora voi domani mattina doveste rifare l'esame orale della patente non voglio essere affrettato ma penso che il 90% di noi compreso probabilmente il ministro non sempre supererebbe la prova della crocetta con domande astruse su cartelli che trovi solo in Alta Valtellina o nel cuore della Sardegna ecco magari un esame più aggiornato e più pratico rispetto ai tempi moderni è utile stiamo lavorando anche per ridurre e chiudo i tempi di revisione dei mezzi pesanti perché è chiaro che noi possiamo fare un codice della strada super avveniristico ma se invece di fare la revisione quindi il controllo dei mezzi pesanti entro il tempo previsto lascio circolare alcune migliaia di mezzi per un anno o due anni in più diciamo che abbiamo un bel da decarbonizzare e da arrivare a obiettivo zero vittime quindi ci abbiamo messo un anno e mezzo ringrazio il ministero ringrazio la dottoressa Griglio che è stata assoluta protagonista di questo percorso ringrazio tutti quelli che hanno portato suggerimenti poi ho visto che secondo me è equilibrato perché stanno protestando sia gli uni che gli altri ci sono proteste in piazza di quelli che dicono è un codice troppo moscio e non ci tutela e ci sono proteste in piazza di quelli che dicono è un codice troppo duro che esagera con le sanzioni e quindi all'italiana se protestano sia gli uni che gli altri probabilmente siamo arrivati al giusto punto di equilibrio a me interessa più salvare una vita che prendere un voto e spero che questo sia l'obiettivo del nuovo codice della strada buon viaggio e buon lavoro a tutti grazie mille ministro di essere stato qui per il suo intervento le chiedo e la cortesia chiamerei i rappresentanti dei paesi Euromed perché da stamani ci sono stati dei panel interessantissimi no ma le dico veramente fatti bene poi e avevano piacere di fare una foto con lei e con Jean Todd se ci raggiunge anche Jean Todd grazie a tutti